clave russo di Kaliningrad. In polacco ora si chiamano Orlowo e Frank Nowo. Tra questi due villaggi parte delle forze tedesche erano riuscite a preparare una linea difensiva improvvisata con delle trincee e delle postazioni di mitragliatrici. Davanti alle forze germaniche si trovava il quindicesimo corpo d'armata russo, parte della seconda armata di Samsonov. Questo corpo d'armata era guidato dal generale Martos, 55 anni, di origine ucraina, uno dei migliori ufficiali dell'esercito zarista. Martos era un leader competente e lui stesso si preoccupava personalmente della disciplina e dell'addestramento dei suoi uomini anche in tempo di pace, quando le sue forze erano stanziate nella zona di Varsavia. Considerando quanto abbiamo visto nell'episodio speciale sulla Russia, questo tipo di approccio da parte di un ufficiale dell'esercito zarista era veramente una rarità. In generale il quindicesimo corpo d'armata era considerato una delle migliori unità dell'esercito russo ed era schierato al centro del dispiegamento della seconda armata di Samsonov. Vedendo che von Schultz non faceva altro che ritirarsi, di sua iniziativa Martos decise di mettere ancora più pressione sui tedeschi, sottoponendo le forze di Samsonov al loro battesimo del fuoco nella battaglia di Orlau-Frankenau. Nella notte tra il 23 e il 24 agosto, approfittando del buio, i fanti russi si avvicinarono alle linee tedesche cercando di fare meno rumore possibile. I tedeschi non si accorsero di nulla e i russi, in completo silenzio, trascorsero l'intera nottata di stesi per terra, nei boschi, dietro i cespugli o fra l'erba alta, ad appena 600 metri di distanza dalle trincee germaniche. All'alba, il generale Martos ordinò ai suoi di attaccare e di impadronirsi delle trincee nemiche. In silenzio religioso, i russi fissarono le loro lunghe baionette sui fucili, si alzarono, lanciarono il loro urlo di guerra, urrà, e si lanciarono all'assalto delle linee tedesche. Le forze di von Schultz furono prese alla sprovvista. I russi coprirono di corsa gli ultimi 600 metri in maniera coraggiosissima. Appena le forze germaniche cercavano di rispondere al fuoco, gli uomini dello zar si buttavano a terra, per poi rialzarsi in un secondo momento, fare un altro scatto e buttarsi a terra di nuovo. In soli tre scatti, i fanti russi furono addosso ai tedeschi, che vedendosi arrivare sopra i nemici di corsa, con le baionette spianate e le bandiere al vento, fuggirono in preda al panico, abbandonando mitragliatrici e cannoni. Quelli che non riuscirono a fuggire dalle trincee si arresero e vennero catturati. Negli altri settori della battaglia di Orla o Frankenau, i tedeschi tennero meglio la linea, infliggendo gravi perdite agli altri corpi d'armata russi che, sulla scia dell'attacco di Martos, decisero di avanzare. Nonostante ciò, le forze di von Scholz furono costrette ad arretrare nuovamente, dalla superiorità numerica e dal coraggio indomito dei russi. Un'altra testimonianza ci racconta che in un settore del fronte i tereschi cercarono di rallentare i russi incendiando un ponte di legno e che le forze zariste, pur di passare, si lanciarono fra le fiamme, facendo scappare a gambe elevate i difensori. La battaglia di Orla o Frankenau del 24 agosto, il battesimo del fuoco della seconda armata di Samsonov, si concluse quindi in un'altra vittoria per i russi, che erano riusciti a far indietreggiare ancora di più le forze tedesche. I russi avevano perso 4.000 uomini tra morti e feriti, mentre i tedeschi 6.000 con un consistente numero di prigionieri. Nonostante stesse perdendo terreno, von Scholz si era armato di pazienza perché sapeva del grande dispiegamento di forze che von Hindenburg e Ludendorff stavano portando verso la sua direzione. Dopo essere arretrato di nuovo, il comandante del ventesimo corpo d'armata stabilì il suo nuovo quartier generale in un piccolo villaggio. Quel villaggio, oggi in polacco, si chiama Stenbark, ma all'epoca aveva un nome destinato a rimanere nella storia. Tannenberg. Grazie mille per l'ascolto, ci risentiamo al prossimo episodio. Grazie mille per l'ascolto, ci risentiamo al prossimo episodio.